Giuseppe, dammi una mano, dammi dei consigli, ma i 5 stelle perdono voti, secondo te cosa devo fare? ...scene di affollamento dei navigli, il virologo Galli, quello che aveva duramente criticato la mancata... Ora, è anche un po' per me, deprimente. Ah 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 ah, che simpaticone, avrai successo nella vita. Struzzo, voglio parlare con te! Le immagini lungo i navigli sono vergognose. Qualcosa mi dice che non sei molto in condizioni di raccontare stupide bugie per tirare... Però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi. Sei un povero idiota. E questo è uno di quei momenti. E non mi fa compagno perché hai bisogno di affetto. Ma che senso dai alla tua esistenza? Ti senti... Grande uomo! Giuseppe, se ti stavo così antipatico, se ti facevo così schifo, potevi anche dirmelo in faccia. Io se ho un problema con una persona, io devo dire che in faccia... ... ...